Ruffo, 30 Manna, 18 Non si avvicini Non mi contamini con la sua ignoranza È finito il gesso Qualcuno chiami all'occa per cortesia Professore Posso farvi una domanda non pertinente alla lezione? Certo di Secondo lei perché Einstein si è opposto alla teoria dei quanti? Perché secondo Einstein Dio non gioca a dadi E poi vedi Il mondo delle verità fisiche come di quelle matematiche è chiuso come una sfera Ogni nuova visione se è profonda è una fuga da questa specie di prigione Si possono avere delle resistenze a fuggire Oppure non se ne può vedere proprio una ragione Messo Per voi professore Anche due cassini Mi raccomando professore lauretano Non li lasciate in aula Mettite la vella in da bruza E qua i cassini spariscono ma loro di dongo Allora Allora